Danni all'auto presa a noleggio, i fermi amministrativi sulle auto, i chilometri sbagliati segnati in revisione, un lavoretto fatto non troppo bene, la benzina con il piombo e una bmw che va a tre cilindri. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti una domenica con Gasi, sono ancora in tutta perché io registro quando riesco, quindi è sabato sera, è proprio buio buio, sono le 7.40, 6.35 e mi sono dilettato, oggi pomeriggio mi sono rimasto in tutta perché mi sono messo un po' a sistemare tutti i miei libretti use e manutenzione, le mie cose ho trovato, che voglio fare un quadretto, queste foto bellissime, del salone di Ginevra del 67, sono foto nuove, sono destinate alla concessionaria che mi ha fornito, che avevo preso i ricambi, quelli di Torino, e ci sono tutti i modelli di lancio. Comunque, sono molto belle e poi ho trovato anche delle foto, guardate che quanti età che i vecchiai hanno, dedite alla Formula 1 credo, Formula 3, che belle, volevo fare un quadretto, qualcosa, allora mi sono messo dietro un pochettino, siccome non ho mai tempo, almeno il sabato lo facciamo. Comunque, ho tutti i capelli scompigliati, devo tagliare i capelli. Allora, comincio col dirvi che la... questo non vuol dire che dovete chiamarmi tutti, ragazzi, perché purtroppo il tempo è quello che è. Allora, nel prossimo fine settimana, quindi la prossima sabato e domenica, non ci sarà la puntata della domenica, perché andiamo, io, Gabriel, Enzino, andiamo a recuperare un'altra tema a 8.32, però non è da ritirare e poi vendere, ma è da riparare, basta, che è di un signore, quindi questa volta siamo a Roma, quindi devo mangiare la carbonara, quella buona, tanta, e una bella birra alta così. Quindi andiamo a Roma da questo nostro signore che ci segue e l'ho posticipato un po' all'appuntamento, perché chiaramente i tempi sono quelli che sono, quindi... poi ci stiamo organizzando per fare la fiera di Padova, quindi quando sarò tutto confermato, perché ogni volta che parlo mi porto sfiga da solo, e... è una cosa che ci tengo molto, sapete che sono un bel po' di anni che cerco di farla e ci stiamo muovendo, ecco, perché dobbiamo già muoverci adesso, perché sono già arrivate le mail, e vi voglio ricordare se siete interessati, se vi interessa, vi lascio il link, magari in descrizione, comunque ve lo metto anche qua, www.gasishop.it.com, non c'è una volta che a meno che mi viene in mente, perché ci sono ancora i capi, per chi volesse prendere qualcosa, qualche regalino, qualche piccola cosa, perché a 100.000 iscritti uscirà un... ci sono 100 pezzi, non ve lo posso dire, perché comunque c'è un capo particolare, c'è un... molto bello, solo che questo chiaramente si potrà prendere solo su Gasi Shop, questa cosa, parlo di quello di 100.000 iscritti, però ricordatevi, quando prendete su Gasi Shop, di inserire il codice fiscale, perché purtroppo il sito non lo prevede, però nelle note voi mettete il codice fiscale, sennò poverine, poi le mie ragazze mi devono sempre chiamare, perché non c'è... ma giustamente non è colpa vostra, purtroppo il sito, noi dobbiamo fatturare il tutto, e purtroppo nel sito non era prevista questa cosa, perché è fatta per i privati, non so come facciano a fatturare, ma comunque sì, è fatta per i privati, noi purtroppo dobbiamo fatturare, quindi... per noi. Comunque, parentesi, quando arriveremo a 100.000 iscritti più o meno, che poi ci sarà, comunque ve lo dirò, ci sarà anche un video particolare, perché ho un progetto mio che ci tenevo da tempo, che vi farò vedere, e purtroppo questo capo sarà acquistabile da chi ha comprato almeno un capo di tutto il resto, quindi o una felpa, o una maglietta, cioè qualsiasi cosa, presa diversamente da quell'ordine, quindi faccio un esempio, usciranno i 100.000 iscritti, ci sarà... lo dico prima in modo che la gente magari si regola, che non c'è bisogno che spendano chissà che cosa, è giusto perché va inserito nella grafica la persona, quindi... uscirà il video di 100.000 iscritti, dovete fare prima l'ordine della maglia, se non avete mai fatto un ordine, o se volete farlo per tempo, potete farlo adesso, prima l'ordine della maglia, della felpa, di tutti e due del cappello, di quello che c'è, dopodiché fare l'ordine della felpa limitata, che poi non è una felpa, è una cosa un po' particolare, invece per chi non avesse comprato, per chi avesse già acquistato e non volesse comprare nessun altro tipo di capo, può prendersi, ammesso che ci sia, la felpa limitata, ce ne sono 100 pezzi ragazzi, per 100.000 iscritti. Va bene, partiamo con la nostra bella domenica. Allora, ciao Gabri, sono Daniele, ti scrivo dalla Puglia, ecco un messaggio a tutti i miei amici pugliesi che sono tantissimi, io sono, dovevo nascere giù io praticamente, invece sono nato qui, va bene, quindi quando, se volete farmi un regalo bello, ci sono gli youtuber che chiedono i soldi, no? Ok, a me non mandatemi i soldi, che non me ne frega niente, mandatemi una bella mozzarella, 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 le burrate, le burratine, le figliate, tutte quelle cose lì, ecco, mi fate contento, più i salumi vari, quindi proprio le cose magre, mi fate contento, mi fate il cuore grande come una Pasqua e mi fate sentire amato, quindi un bacio a tutta la Puglia, che secondo me è un posto eccezionale. Comunque, ti saluto con affetto, salta i convenivoli, bla 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 bla, in vista dell'arredamento della casa, che avrei dovuto prendere in affitto, decido di intraprendere un viaggio di circa 70 km alla volta di Francoforte, abita in Germania questo signore, mi scrive dei mobili e poi metterli nella stessa casa. Per il trasporto decido di noleggiare un furgone quale Merced Sprinter 3000 V6 da una nota compagnia internazionale di noleggio. Arrivo di buon mattino in sedia e facendomi aiutare da un conoscente sbrigo le pratiche necessarie al noleggio, pagando ben 75 euro di assicurazione solo per quel giorno di utilizzo. La stessa, quanto detto dall'operatore, mi copriva fino a 750 euro di danno. Parto con questo bel furgone e mi faccio il viaggio, ritiro il tutto, torno indietro, scarico e vado a riconsegnare il mezzo. Penso che il giorno in questione è un sabato, preciso che il giorno in questione è un sabato e la data di chiusura dell'attività negli orari pomeridiani alla consegna è un sabato. E data, scusatemi, cancellatevi, è la stanchezza. Allora, preciso che il giorno in questione è un sabato e data la chiusura dell'attività negli orari pomeridiani alla consegna metto le chiavi in un apposito contenitore all'esterno di questa struttura che oltre a chiudersi automaticamente segnava anche l'orario al quale il mezzo veniva riconsegnato. Tutto computerizzato. Al momento del noleggio venivano trattenuti dalla mia carta di credito 200 euro come cauzione in caso di danni che sarebbero stati riaccreditati nel caso fosse andato tutto bene. E così è stato. Esperienza positiva se non fosse per il fatto che dopo il terzo giorno ricevo una mail nella quale mi viene chiesto se sapevo qualcosa riguardo dei danni sulla fiancata del mezzo da me noleggiato. A questo rispondo io che non ne sapevo assolutamente nulla e che non potevo essere d'aiuto loro. Ringraziano e spariscono. Per una settimana ricevo una seconda mail contenente foto del danno e una fattura di 950 euro che avrei dovuto pagare io. Nonostante avessi pagato l'assicurazione ho scoperto in seguito che fino a 750 euro dovevo pagare io. Per l'extra invece ci pensava l'assicurazione. Pensa che coglione. Scritto lui. Un'altra cosa però mi saltava all'occhio ovvero il mezzo in questione era bianco come il latte mentre quello noleggiato da me era argento. Faccio presente questa cosa e dico che assolutamente non se ne parla che io paghi per un danno non fatto da me poiché anche se fosse stato lo stesso mezzo io l'avevo consegnato in un parcheggio non custodito nel quale chiunque avrebbe potuto arrecargli del danno. Nel frattempo torno in Italia dove sono tuttora e qualche mese fa ricevo una mail l'ennesima in cui la compagnia di noleggio si scusa per il disagio arrecato. si scusano per avermi incolpato di una cosa non fatta da me e inoltre sperano candidamente che io torni presto a noleggiare qualcos'altro. Inutili dirgli che io gli ho candidamente ha scritto una parolaccia. Strano io non le dico mai. Molto probabilmente alla vista dei miei documenti avranno strofinato le zampette come le mosche credono di aver trovato il pollo giusto. Scusami per la mailunga un abbraccio a tutti. Beh tutto è bene quel che finisce bene. Diciamo che bisogna avere sempre gli occhi aperti. In questo caso bisognerebbe avere una dashcam nel cervello. La potergli mandare. O almeno le fotografie. A parte il fatto che il parcheggio non è custodito. Ma almeno le fotografie della targa del mezzo. Non lo so. Mi sembra... Io non ho mai noleggiato nulla quindi non saprei darti una risposta a questo. questo può servire a molti. Allora... Ciao Gabri blablabla. Qualche giorno fa vendo la mia macchina aveva su molti chilometri e anche se mi piaceva molto ho preferito cambiarla. BMW 290.000 km. Trovo un acquirente, un ragazzo che mi dice di essere un commerciante che mi chiama e ci mettiamo d'accordo sulle parti presso un'agenzia. Premetto che è un periodo così così con i soldi e avevo indietro un paio di multe e due bolli. Qualcosa come un migliaio di euro che mi ero ripromesso di saldare a vendita avvenuta. Non ero sicuro della mia situazione ma sapevo che c'era qualcosa che non andava. Quindi aveva già avuto qualche segnalazione o qualche cartella magari a casa via... Non cartella così eh. Qualche cartella via... via posto. L'accordo c'è stato... ok l'accordo c'è stato... tratteniamo e lui mi paga regolarmente in contanti. In agenzia scopriamo quasi a passaggio finito dopo che io ho firmato che la macchina ha un fermo amministrativo che ammonta appunto a circa 900 euro. A questo punto lì davanti alla detta dell'agenzia lui mi dice che visto che è il sabato e lui deve iniziare a metterla in vendita già da lunedì... Commerciante che la prende la brucia subito quindi immagino come l'abbia guardata. Aveva fretta di sbloccarla. Mi chiede la cifra che compariva sulla misura dell'agenzia che avrebbe pensato lui a regolare il tutto. Insomma devo essere sincero mi sono fidato e gli ho dato i soldi. A oggi sono passati alcuni giorni non ho notizia. Nemmeno vedo sul sito della regione che la mia posizione è regolarizzata. Ho sbagliato a fidarmi. L'agenzia può fare il passaggio se c'era un fermo amministrativo? Curiosità. Secondo te con i vecchi passaggi con il notaio sarai stato più tutelato? Un autoconfermo amministrativo si può demolire? Grazie delle risposte. Spero sia utile anche per altri perché sembrava proprio un gioco collaudato. E non so se pensare che anche l'agenzia ci sia di mezzo. Un abbraccio a tutti. Allora facciamo un attimo di chiarezza. Innanzitutto tu all'inizio hai detto che sapevi che c'erano queste multe e ti eri accordato. Quindi gli avevi già tolto dei soldi a questo tizio qua. Comunque tra persone normali, magari non il sabato mattina, ma comunque tra persone normali si fa una disura prima di fare il passaggio di proprietà. In teoria non davanti al tizio dell'agenzia. Però magari qualche giorno prima. Prometti che il fermo ti può arrivare durante la notte, quindi per scrupolo andrebbe fatta prima di fare il passaggio. Anzi, va fatta prima di fare il passaggio. Detto questo, il fermo amministrativo segue l'auto, ma l'ammenda, quindi i soldi, seguono la persona fisica. Cosa vuol dire? Un'auto con fermo amministrativo si può vendere? La puoi tranquillamente? Il passaggio va avanti. Perché tu potresti venderla, come nel tuo caso, a una persona che si accolla i tuoi debiti a parole. Innanzitutto, indipendentemente dai chilometri, dalla tipologia di macchine, immagino che sia una macchina che ti abbia dato due cocomeri, un peperone e due dita negli occhi. Però a monte di questo, un commerciante che in sede di passaggio ha fretta di vendere così la macchina, vede che ha un fermo e la prende comunque, io non gliela avrei data la macchina. A priori. Capisco che tu ti hai necessità di soldi, parlo di te venditore, non di lui. Quindi tu gli hai scalato i 900 euro, che poi quando vai a pagare il fermo, tra la ristampa del CDP, la cancellazione, sono sempre di più dei soldi indicati. Quindi se voi trovate 900 euro, c'è sempre la mora, la cancellazione, tutte queste cose qua. e quindi la cifra monta. Ecco perché di solito non si dà mai. Si regolarizza e dopo si fa quello che si deve fare. Allora, una volta, prima del 2011, quindi dal 2011 in poi non si può più fare, si poteva demolire una macchina col fermo inestrativo, demolire per esportazione o demolire normalmente. Ora invece si può demolire dal rottamaio, c'è una pratica particolare che io non conosco, ma non è il caso di questo ragazzo. Perché questo ragazzo l'ha comprata per rivenderla, questo tizio. Ok. Io personalmente vorrei capire. Il passaggio è andato avanti di sicuro. Quindi se l'agenzia di Praticauto ha fatto il passaggio, ma vorrei capire, se lui ha regolarizzato la cosa, lo vedi subito. Cioè, magari aspettare un momento e poi vedere se nella nuova visura, perché ci vuole sempre qualche giorno, in cui compare il nuovo proprietario, che immagino che non sia più lui, perché penso che l'abbia venduta, demolita, esportata, non lo so. No, demolita non puoi farlo perché ha il fermo, quindi demolita non di sicuro. Però se con una visura, fra un po' di tempo, si vede chi è il proprietario, lo vedi ancora se ha un atto amministrativo aperto. Però da lì, a dirti che hanno sistemato la tua posizione, io non l'avrei mai fatto. Non puoi neanche firmare una perdita di possesso, perché la macchina, a tutti gli effetti, venduta. Quindi queste cose andrebbero fatte prima e mai avere fretta. Attenzione perché di macchine con il fermo può capitare, ragazzi. Lui magari lo sapeva perché gli sono arrivate due molte, ma c'è chi anche magari in buona fede non lo sa. Allora, questa è un'altra cosa molto importante che è successa anche a me, un po' più grave di questa. Sono un tumoratore, c'è una Gabriele dalla provincia di Asti, possego una Golf 2-16 valvole, come quella che avevo io, che utilizzo pochissimo e che quest'anno, nel mese di aprile, l'ho portato presso in un'officina della mia zona per la divisione periodica. Erano circa le 18.30, non esco mai presto dall'ufficio. Arrivo e il tecnico mi fa entrare. Scusate. Un po' di stanchezza. E il tecnico mi fa entrare. Inizio le attività, un paio di chiacchiere, ci conosciamo, e nel corso dei vari controlli mi chiede per ben travolti i chilometri dalla macchina, che erano 125.980. In una di queste occasioni, e anche seduto al lato guida, stavo proprio osservando il tachimetro digitale, da cui non si può non vedere i chilometri. Andiamo alla fine, pago, mi presenta la ricevuta, che si deve firmare e che da imbecille non ho letto completamente, fidandomi del fatto che i chilometri li avevo comunicati in precedenza più volte, e rientro a casa. La sera stessa, dopo cena, dopo aver visionato un film, decido di mettere via i documenti dalla macchina per poi andare a dormire. Lì scopro che il fenomeno aveva indicato 128.520, cioè ben 2500 chilometri in più. Mi attivo immediatamente su internet per vedere come fare, scoprendo che la variazione si può eseguire, ma entro le 24, le 24, quindi a mezzanotte, della stessa giornata, in cui è stata fatta una visione. Purtroppo erano già mezzanotte e un quarto. Il giorno dopo torno in officina segnalando il fatto, lui prova a verificare, anche se gli avevo già anticipato quanto avevo riscontrato su internet. Alla fine mi dà un adesivo del cavolo con scritto a penne ai chilometri reali dicendo che tra due anni sistemeremo il tutto. Come si potrà mai ripristinare una cosa del genere dopo due anni? Non percorrerò mai 2500 chilometri in due anni con quella macchina. Non poteva quantomeno rilasciarmi una dichiarazione dell'officina in cui si spiegava l'errore? Infine, non succederà mai, ma qualora volessi vendere la macchina, come farò a dimostrare che i chilometri indicati inferiore a quelli di revisione sono realmente i suoi? Grazie della risposta, un caro saluto, una mega carezza al mitico Delta. Allora, nel tuo caso l'errore è veramente minimo, anche se c'è. Però è un problema questo, a me è successo ma con un chilometraggio ben diverso. Allora, diciamo che nel tuo problema, in due anni, io personalmente quello che avrei fatto io è questo. Allora, vabbè, mi sarei fatto rilasciare, allora, la dichiarazione te la devono rilasciare e a me l'hanno rilasciata, bastava chiedergliela te la fanno, ma è comunque carta straccia, perché sul portale dell'automobilista rimane traccia di quella revisione. Quindi, o si fa la seguente cosa, se tu hai uno storico di revisioni preciso, perché lo storico di revisioni parte da giugno del 2018, quindi immagino che questa cosa sia successa nel 2020 o nel 2022, quindi se il primo storico del 2018 è congruo, se tu fai pochissima strada con questa macchina, il primo storico è congruo. Il secondo, mettiamo che sia il secondo il tuo, più o meno ci siamo. Io personalmente avrei fatto 2500 chilometri in più, in due anni mi mangiavo quello che è e li facevo. Altrimenti, quello che è successo a me, che è molto più grave, perché a me hanno sbagliato qualcosa come 45.000 chilometri, la macchina aveva 86-88, mi hanno segnato i 124.000, quindi è stato un problema quello. Io glielo ho segnato subito, ho spiegato subito, mi fanno, no, correggiamoli, faccio guarda che dal portale dell'automobilista non va via quel dato lì. Infatti sei informata da così. Allora, mi hanno fatto il foglio che ti stavo appunto dicendo, che io ho allegato al cliente, e poi abbiamo rifatto il giorno dopo la revisione della macchina con i chilometri corretti. C'è da dire che comunque si è aggiunta una revisione nel portale dell'automobilista. Capito qual è il problema? Quindi c'è un'incongruenza, perché se tu hai, faccio un esempio, metti che succede adesso, no? Tu hai 2018, hai 60.000 chilometri. Sto sparando. 2020, 72.000. 2022 hai 126.000 e poi ne hai 85.000. Devi spiegare. È vero che il fatto il giorno dopo è abbastanza credibile, con il foglio della revisione anche, però con i tempi che corrono puoi trovare sempre quello che ti può impugnare la cosa. Quindi nel tuo caso io personalmente non avrei smosso le acque, avrei usato la macchina. Cioè, 2.500 chilometri in più in due anni o tu la usi veramente come me, cioè che non la usi la macchina, però a quel punto lì avrei detto, piuttosto di avere un'incongruenza o avere una revisione in più che desterebbe più sospetto, io personalmente per 2.500 chilometri di differenza avrei usato la macchina e ne avrei fatti, che cazzo ne so, 3.500 in due anni e mi sarei fatto la mia revisione fra due anni, perfetta, senza aver tolto niente e nessuno. Questo è quello che è. Però attenzione a questa cosa ragazzi, stateci dietro perché molte volte noi firmiamo il documento senza guardare questa cosa dei chilometri e siccome i chilometri sono un dato rilevato dall'operatore, l'operatore può sbagliare. Quindi, e dopo è un problema perché è una cosa abbastanza inattaccabile quello dichiarato sul portale dell'automobilista. State attenti perché in questo caso è una scemata. Nel mio caso è stato molto peggio. Anzi, mi scuso ancora con Stefano che probabilmente mi sta anche guardando. Allora, buongiorno Gabri, mi chiamo Antonio e descrivo da Bitonto Bari. Per condividere con te ma soprattutto con gli altri iscritti un'incresciosa vicenda che mi è accaduta nel 2018 con un presunto elettrauto, rivelatosi un autentico scacciacani, incosciente che poteva finire davvero malissimo, a dimostrazione del fatto che anche i lavori semplici debbano essere fatti da personale competente e coscienzioso. Spero di non dilorganmi troppo. No, sono solo due pagine di mail. Allora, sono proprietario di una Fiat Punto acquistata nuova nel 2016 nell'allestimento più accessoriato, Lange. Impoverito, come lo definisco io. Infatti rispetto alle Lange degli anni precedenti questa è la meno accessoriata. E vanno a risparmio, vedi? La mancanza più evidente è l'assenza dei gruppi ottici posteriori con luci di posizione a LED, quelli della Punto Evo per intenderci, sostituiti con quelli della molto più datata Grande Punto. Eh, perché risparmiamo. Scaluta la garanzia, dato che i fanali della Grande Punto stavano davvero male, acquisto nuovi suddetti fanali e i loro connettori e decide di affidare l'auto a un elettrauto della zona che avevo conosciuto poco tempo prima per una banale regolazione degli annabaglianti. In quell'occasione mi è sembrato molto competente e cordiale. L'officina ordinate, ricca di apparecchiature, hanno fatto il resto. Inoltre, dato che ho studiato elettrotecnica, ero certo si trattasse di un lavoro semplice e fattibilissimo, ovvero installare una resistenza per ingannare la spia varia luci e fare una piccola modifica all'impianto delle luci posteriori. Forse avrei potuto anche farlo da solo in garage, ma ho desistito lasciando fare un professionista. Giorno 1. Gli lascio l'auto e come d'accordo torno dopo due ore. Mi mostra il corretto funzionamento delle luci posteriori mentre ero fuori dall'auto. Mi dice che aveva avuto un po' di fastidi con l'installazione, ma alla fine è risolto. felice, pago subito 50 euro in nero. Molto male, adesso lo so, e vado via. Dopo letteralmente 50 metri accendo i fari e immediatamente compare la spia varia luci con relativo messaggio sul display. A varia luci di posizione posteriori. Stranito, torno indietro e gli mostro l'anomalia. Mi risponde che quando l'avevo provata l'errore non era comparso. Ovviamente questa è una cavolata perché la resistenza o funziona o non funziona. A ogni modo si rende disponibilissimo a rifare il lavoro e mi dice di tornare dopo due giorni. Giorno 2. Come d'accordi vado in officina nel primo pomeriggio, ma mi riferisce che stava poco bene e che quindi stava per chiudere l'officina, pertanto mi chiede di chiamarlo in un altro momento per fissare un nuovo appuntamento. Giorno 3. Dopo averlo chiamato e fissato appuntamento gli lascio l'auto e torno dopo due ore. Mi restituisce l'auto con un nulla di fatto, dicendomi che non aveva trovato la resistenza giusta. Quindi fissiamo un nuovo appuntamento. A casa smonto il fonale e non trovo nessuna resistenza. E non l'ha trovata, non te l'ha montata. Penso. Giorno 4. Vado in officina nel giorno e nell'orario concordato, ma non lo trovo. Al suo posto trovo il figlio maschio che mi dice che era fuori città per acquistare dei ricambi e che non era a conoscenza dell'appuntamento. Mi ha proposto di lasciargli l'auto, ma ovviamente non l'ho fatto e ho chiesto di farmi richiamare al suo rientro. Aspetto fino al pomeriggio, ma questo non chiama e quindi lo chiamo io. Dopo qualche tentativo mi risponde, gli chiedo spiegazioni e si scusa dicendomi che si era dimenticato che quel giorno si sposava la figlia femmina. deve essere proprio contentissimo di conoscere il genere, cazzo! Non si ricorda che... Ma poi dico, ma quell'altro mentecatto mica si sposava la sorella? Vabbè. E che non era quindi disponibile. Dato che aveva capito che ero molto scocciato dalla situazione e che chiaramente aveva perso ogni fiducia in lui, mi propone la restituzione del denaro. Accetto, gli dico che sarai passato successivamente, ma senza fissare un vero proprio appuntamento. Giorno 5. Mi recco in officina nel primo pomeriggio del giorno successivo e chiedo alla restituzione dei soldi come da accordi, avendo anche cura di non farmi sentire dagli altri clienti. Rifiuta e mi risponde che aveva trovato la resistenza giusta, quindi potevo lasciargli l'auto e tornare dopo due ore. A malincuore accetto. Ma torno in officina dopo poco più di un'ora, proprio per vedere cosa stesse combinando. Entro in officina, salutando a bassa voce, in modo da non farmi sentire. Entro proprio nel momento in cui stava rimontando i fanali. Lo colgo alle spalle e mi fa. Ho trovato la resistenza giusta e inoltre ho aggiunto una seconda lampadina. A questo punto penso che aveva anche rovinato i fanali. Inizio a nervosirmi per davvero. Intanto accendo le luci e scopro la schifezza di lavoro che aveva fatto. Foto in allegato. Adesso questa non posso farvela vedere. In pratica il genio per ingannare la spia di avaria luci aveva messo in parallelo al led di posizione una lampada da 21 watt e questa l'aveva posizionata a contatto con il fascio cavi che escono dalla carrozzeria. In un punto che oltretutto non è assolutamente ventilato. Inoltre notte che aveva fatto saltare la vernice in un punto della carrozzeria facendo leva con un cacciavite, immagino per togliere il faro. A questo punto volevo solo fuggire da quel posto, pensando che dovevo trovare alla svelta un'altra elettrauto. Mentre mi accingo a salire in auto per andar via mi sento richiedere da questo personaggio ulteriori 20 euro. Credevo davvero che stesse scherzando quindi lo ignoro ma me lo ripete una seconda volta. A quel punto vedo nero. Lo guardo con un sorriso carico di rabbia e gli dico stai scherzando vero? Mi risponde di no dicendomi che aveva montato delle resistenze speciali molto costose e difficili da trovare. Ero diventato una iena. Gli rispondo che non avrà nulla da me e a quel punto in presenza degli altri clienti alza la voce facendomi passare per un cliente che non lo voleva pagare e quindi facendomi fare una pessima figura. Altrettanto a voce alta spiego con tantissima fatica le mie ragioni, dato che ero talmente arrabbiato che mi mancava la voce. E' mancato davvero poco da mettergli le mani addosso. Cerchiamo di evitarle queste cose. Fortunatamente questo non è successo. Entro in auto e scappo via. A casa poi ho smontato il fanale e ho scoperto che non c'era nessuna resistenza. Oltre al danno alla vernice aveva anche montato male i nuovi connettori, rovinandone e uno, con il rischio che si potesse sfiammare. I collegamenti poi erano stati fatti avvolgendo a mano e coperti con del nastro isolante, senza traccia di saldature e guaine termorestringenti, il che è grave considerando che in quel punto arriva acqua. Chiedo come si possa fare un lavoro del genere e come facciano alcune ufficine di maniera ancora aperte. Fortunatamente mastico in materia e mi sono accorto di quello che aveva combinato. ma chissà cosa sarebbe potuto accadere se il malcapitato non si fosse accorto di nulla. Considerando che l'auto la uso tantissimo anche per i viaggi lunghi, con le luci rimangono accese anche per ore in modo continuativo, che tipo di danni avrebbe potuto subire l'auto? Io credo nel migliore di casi si sarebbe bruciato l'impianto elettrico, ma nel peggiore avrebbe dato un invia a un incendio. No, quello no, perché magari sarebbe saltato prima il fusibile. Il lavoro, che poi è stato rifatto a regolare da un'altra letra auto, degno di essere chiamato tale, abbiamo bisogno di persone come voi, è scritto come me, comunque professionisti, ce ne sono di professionisti ragazzi, adesso questo ragazzo qua, diciamo che io, questo rientra sempre nella torta delle questioni, delle officine che pur di lavorare ti fanno delle cose che non sanno fare. Perché evidentemente per queste persone è una perda di credibilità dire, guarda, non è una cosa che noi facciamo, io lo dico tutti i giorni, che ci sono un sacco di cose che io non faccio. Poi se il cliente vuole tornare da me, io ne ho tanti di clienti, grazie a Dio, se il cliente vuole tornare da me, torna. E se non vuole tornare perché se l'è presa, chiaramente questo deve mangiare sul montaggio dei due fanali, quindi probabilmente ci prova, poi questo qui non ha montato nessuna lampadina, perché la lampadina, il led consuma pochissima energia. Quindi lui che cosa fa? La macchina rileva come se ci fosse la lampadina bruciata. Ci sono le resistenze professionali, noi le abbiamo, adesso a parte Osram, che va bene, è il top di gamma come abbiamo noi. Però ripeto, ci sono anche delle altre tipi di resistenze, e si fa anche un bel lavoro. Secondo me mettere la lampadina volante dentro è proprio una resistenza da 0,10 centesimi, e credo che sia anche un brutto lavoro. Ok, ciao Gabriel, inutile complimentarmi. Bravissimo, si è fermato subito. Faccio una domanda che forse è stupida e forse che nessuno ti ha mai posto. Visto che le auto di epoca erano concepite a benzina col piombo, quando fu eliminata si procedeva a un intervento alla testa per adeguare la benzina attuale, oppure era sufficiente un additivo o altro? Nel caso si procede ancora in questo modo per il loro utilizzo? Grazie per la risposta, un cordiale saluto a tutti. Allora, un discorso molto importante. La benzina col piombo è stata bullita nel 2000 e per circa sei mesi o un anno c'era il cosiddetto, si ricordano quei di vecchia data come me, o di più, il cosiddetto benzinone, che erano la benzina verde, praticamente, messa nelle cisterne della rossa e raccoglieva il piombo che c'era interno sulla cisterna, ma chiaramente ce n'era sempre meno. Allora, il discorso del piombo, ragazzi, dobbiamo andare indietro di tanto. Allora, le macchine con la benzina rossa sono state prodotte fino all'avvento, prima dell'avvento dell'Euro 1, quindi si dipende dalle marche di macchine comunque tra l'89 e il... Allora, nel primo di gennaio 1993 tutte le macchine immatricolate hanno la normativa 91-441, quindi sono obbligatorie Euro 1, quindi catalizzate, ma ci sono molte macchine, soprattutto le top di gamma, M5, SL, le macchine americane, che sono già normativa 91-441, già nel 91-92. Comunque le catalizzate, quindi quelle con la benzina verde, partono dall'89, qui da noi, poi in America molto molto prima, parlo qui da noi, quindi c'erano già le macchine, la tema 832, nell'89 era già catalizzata, e quindi c'era scritto benzina col piombo, anche se era una normativa 89-441, quindi era considerata a tutti gli effetti un Euro 0 per la circolazione, ma aveva il catalizzatore, si metteva la benzina verde e non la benzina rossa. Allora, per andare sul discorso delle valvole che si rovinano o degli anticipi, dobbiamo andare molto indietro, circa negli anni 70 e forse prima. Allora, la benzina rossa, il piombo, crea una sorta di lubrificazione nelle sedi valvole, quindi si potrebbero consumare di più con la benzina verde, ma esistono degli ottimi additivi che sostituiscono il piombo, e ve li consiglio. Ma credetemi, per i chilometri che si fanno oggi, con le macchine d'epoca, ma quelle veramente degli anni 60-70, la benzina verde non gli fa niente. Se volete mettete l'additivo per sicurezza, però voi considerate che quando nel 2000 c'è stato, perché questo è purtroppo l'italiano medio, è una cosa folle, io ho dei filmati che andavo con, che ero ragazzino perché ho preso la patente nel 2000, 2001 scusate, e andavamo a fare i filmati dal demolitore, non è che ce n'erano tantissimi di demolitore. Io mi ricordo nel 2000, incominciavano il 2001, quando c'è stato l'abbandono della benzina rossa, la gente cominciava a buttare via le macchine, ma macchine anche recenti, per l'epoca naturalmente, perché pensavano che non potessero più girare, o magari consigliati male, una sorta di demolizione di macchine, una cosa folle. Molte macchine, quindi si andavano in giro con la benzina verde, ma già all'epoca, sono vent'anni che vanno in giro con la benzina verde, quindi per me, prima di creare dei danni, ammesso che ne possano creare, ne dovete fare tanti di chilometri, ma tanti, quindi secondo me il problema non si pone, però l'utilizzo di un additivo, secondo me è buono, sia quello per l'additivo con il piombo, sia come octane booster, quindi un additivo che vi dia gli ottani che possano mancare, perché in teoria la benzina rossa non dovrebbe avere più ottani, però all'epoca capitava di trovarla, e quindi vi può aiutare che magari la benzina verde, essendo più povera, picchi in testa, quindi c'è da regolare l'anticipo, se si può fare. Chiaramente le macchine che hanno l'anticipo fisso, quindi sono già in iniezione, non hanno questo tipo di problema, potete metterci la benzina verde tranquillamente, quindi le macchine a iniezione, non catalitica, andate tranquilli con la benzina verde. Le altre, antecedenti a quella data, per me è meglio metterci l'additivo, però ripeto, non è un problema se saltate uno o due pieni senza additivo, tranquilli sotto quel punto di vista. Cioè se si bruciano le valvole perché hanno un altro problema già da prima, non è certo i due pieni di benzina verde. Ciao Gabi, sono Giacomo e ti scelgo dalla provincia di Venezia. Comprimenti per il canale, un saluto a tutti. Ti racconto un anedito che secondo me potrebbe essere simpatico. Vengo al dunque, due anni fa acquisto una BMW 320i serie E92, con motore N43 B20 Euro 5 benzina. Una mattina metto in moto l'auto e sento che il motore va a tre cilindri. Poco male, penso, saranno le candele o le bobine da sostituire. La porto direttamente in officina che sta proprio sotto casa mia, quindi per mia fortuna ho visto tutta l'evoluzione della storia. Il mio meccanico, persona molto onesta e che stimo tantissimo per la sua preparazione tecnica, mi fa una diagnosi e sul computer esce. Mancata accensione cilindro 2. Mi cambia le candele e le bobine, ma l'auto non appena la mette in moto mi dà lo stesso difetto. Motore a tre cilindri secchi. Quindi mi fa un'altra diagnosi e il difetto che dà il computer è sempre uguale. Io avrei da dire già qui, anzi lo dico perché adesso va bene tutto. Allora, tu mi hai detto che lo stimi tanto, che lui è onesto. Onesto sicuramente. Però, preparazione tecnica? Allora, innanzitutto quando una diagnosi, a meno che non sia un esame del cazzus, ma non credo, ti dice mancata accensione, già non è la mancata combustione. Quindi la prima cosa da fare, se uno non è sicuro, o cambia quattro bobine e quattro candele così, ma si prova sempre ad invertire. Quindi, visto che l'errore è sul secondo e lo prende subito perché se tu la metti in moto è già vatra, è fissa, si mette prima la candela e poi l'iniettore si inverte di posizione per vedere se l'errore segue la posizione. Lui anche invece ha cambiato tutto a priori, la macchina è uguale a prima. Ok, quindi mi fa un'altra diagnosi. Il difetto del computer è sempre uguale. Visto che le bobine e le candele erano nuove, si credeva che la causa del difetto fosse l'iniettore numero 2, che non funzionava, non essendoci modo per testare quel tipo di iniettore, andava sostituito. Se è quella che dico io, è iniezione diretta di benzina, sta macchina, che è molto stronza, quindi quando si tolgono quegli iniettori vanno anche mantenuti in un certo modo perché perdono la taratura purtroppo. Ok, va bene, dico io, sostituiamo anche questo benedetto iniettore perché nel frattempo l'auto mi serviva per andare al lavoro. Arriva l'iniettore, viene installato e l'auto è uguale a prima, con la stessa diagnosi. Il mio meccanico prova a controllare tutto l'impianto elettrico dell'accensione e risulta tutto ok. Premetto. se ti dava come errore mancata accensione non poteva essere l'iniettore perché sarebbe una mancata combustione, che è un altro discorso, ma sempre invertendo le cose si risolveva il problema. Il mio meccanico prova a controllare tutto l'impianto elettrico dell'accensione e risulta che è tutto ok. Non so che cosa abbia controllato perché quello che arriva sono micro segnali, quindi non è che arriva la corrente diretta, ma comunque va bene, non importa. Quindi viene presunto che sia la centralina che fa fare corto alle bobine. Costo nuovo in BMW 1130 euro più IVA. La trovo usata su internet, ma le tempistiche per averle erano di circa due settimane. Vabbè, mi arrangio con l'auto dei miei genitori. Io prima di cambiare una centralina, cioè, divento... ma non esiste una cosa del genere, ma neanche usata, a parte che sono codificate, quindi vabbè. No comment. Arriva la centralina, me la installano e l'auto dà lo stesso medesimo errore. Io esasperato la volevo buttare... per me è meglio che butti il meccanico. Il meccanico, idem, non sapeva più che farci. Una sera, dopo il lavoro, come tutte le sere di quel periodo, vado dal meccanico e guardo il cofano del motore e gli chiedo. Magari proviamo a sostituire di nuovo le candele numero due, visto che per quanto riguarda l'accensione e l'alimentazione del cilindro è tutto nuovo. Lui non aveva in casa lo stesso tipo di candele, quindi prende dal suo magazzino una candela di una Peugeot, la installa e mi fa girare la chiave. L'auto magicamente parte a quattro cilindri e gira da Dio, come me lo ricordo. Sostituiamo la candela e poniamo fine a questo supplizio durato tre settimane. Ovviamente il meccanico aveva già provato a controllare le candele, se faceva la scintilla e a quanto pare la faceva, ma come da perizia poi della casa costutrice era leggermente interrotta all'interno della ceramica. Fortunatamente la storia è nata a finire bene, siamo riusciti a trovare il difetto e ovviamente il meccanico si è riuscito a far rimborsare dal ricambista tutta la mano d'opera e i ricambi per la candela difettosa. Cioè gli ha pagato la centralina, l'iniettore. Figa, un ricambista presente a questo ricambista qui perché ora l'auto l'ho venduta perché ho cambiato le mie esigenze, ma oltre a quel piccolo inconveniente in questi due anni mi ha dato tante soddisfazioni. Non dico niente perché insomma per me era tutto molto più semplice, ma comunque un ricambista da paura. A proposito dei ricambisti da paura, io ho un bellissimo rapporto con il mio ricambista perché ne ho una, io per quanto riguarda le storiche ho i miei canali, però per quanto riguarda le macchine tradizionali e anche una buona parte delle storiche, poi magari un giorno ve ne parlerò se avete piacere, ho il mio ricambista, cui voglio molto bene e siamo molto amici dalle altre cose e lui le mie macchine se le prende a cuore e questa è una delle cose più importanti, come io prendo a cuore le macchine dei clienti, lui si prende a cuore le mie macchine perché bisogna perderci del tempo. Allora l'altro giorno mi telefono, ci telefoniamo anche per salutarci, abbiamo un bellissimo rapporto, anzi lo saluto, ciao Francesco, mi stai guardando sicuramente. Mi telefona per dirmi una cosa, questa Gabriele te la devo raccontare, mi telefona un cliente, allora no, lui stava facendo un lavoro, mi racconta, no? Dall'altra parte non è da solo, sono in tre o quattro o cinque lavorare dentro lì, quindi è una bella autoricammi. risponde l'altro collega, lui sente delta integrale ottovalvole, dice cazzo come si permette questo con la delta integrale ottovalvole di non andare dal gas e di non andare dall'altra parte, vabbè. E gli fa l'elenco delle cose che ha bisogno questo meccanico, no? Allora il collega gli fa a Francesco, Franci prova a sentirlo tu perché su questa macchina qua sei più a mezzo, perfetto. Prendi ma il telefono gli fa, sì ciao ascolta mi servirebbe la cinghia di distribuzione, il chi distribuzione scusami, e i paraoli dietro le pulegge, scusami i paraoli lato distribuzione, i due, cancella, la cinghia di distribuzione, il chi distribuzione e i due paraoli lato distribuzione. Francesco gli fa, guarda che i paraoli lato distribuzione sono cinque, sono i due delle pulegge superiori degli alberi a cani, i due dei controalberi e quello dell'albero motore, il meccanico. No, 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 quelli dei controalberi non li tocco neanche, non so neanche come vengono via. Ok, non gli dico neanche che dalla parte del cambio ce ne sono altri tre di paraoli, lasciamo perdere. Gli fornisce la roba, quindi cinghia. Ah no, aspetta, nel frattempo gli fa, ok, ma ti serve anche la cinghia dei controalberi. No, no, è bella la cinghia dei controalberi, non la cambio. Quindi questo gli fa la distribuzione della delta, che già si spaccavano solo a guardarle, gli lascia sulla cinghia dei controalberi perché è bella. Che quelle quando si spaccavano, la gente non se ne accorgeva perché la macchina andava lo stesso. Se ti va di culo si appoggia dentro nel carter, se ti va di sfiga va dentro nella cinghia di distribuzione e fai un disastro. Comunque va cambiata, punto. Non la cambia, quindi lui li fornisce, chi distribuzione, quindi cuscinetto, cinghia di distribuzione. Non ha neanche menzionato la pompa dell'acqua perché è esterna, quindi se non tocca la cinghia dei controalberi, mi immagino cosa faccia con la pompa dell'acqua, gli dà sti paraoli. Dopo due giorni mi richiama Francesco e mi fa, ma lo sai che quel meccanico là, non ti posso dire il nome, mi ha ridato indietro la cinghia di distribuzione perché mi ha detto che era bella, si leggevano ancora le scritte. Quindi questo ha smontato la distribuzione perché perdeva olio, gli ha smontato la cinghia vecchia, la cinghia dei controalberi, ha tirato via le ponegge, ha cambiato due paraoli e ha rimontato tutta la roba vecchia perché si leggevano ancora le scritte e non gli ha cambiato quelli dei controalberi perché non sa come vengono via. Ora qua i problemi sono due. Uno, questi meccanici che lavorano e li sentiamo tutti i giorni. Qua non andiamo lontano. Per ogni tanto vi devo raccontare qualcosa anch'io. Due, chi ha una delta integrale ottovalvole con una macchina che va dai 30 ai 40 mila euro, che va in un'officina così. Io mi rifiuto di credere che chi ha una delta, questo gli abbia detto, rimonta la cinghia vecchia. Mi voglio rifiutarmi di crederlo. Pensate anche il ricambista che si fa un culo così, gli porta la distribuzione e questo gliela dà indietro, quindi anche sbattimento, vai a prendere. Va bene che lui le tieni in casa perché con me che gliene compro praticamente due o tre al mese, non è un problema. Anzi, gli ho detto, tienile in casa perché io la faccio fuori. Questo qui gliela date indietro. Ma è una cosa pazzesca. Questo è quello che c'è in giro. Quindi ragazzi, attenzione a chi affidate almeno le vostre young timer. Poi, se siete degli scappati di casa e avete dei cessi, lo posso anche capire, ma una delta ottovalvole, rimontare la cinghia di distribuzione vecchia e non toccare quella dei controalberi, ma ce ne vuole, né? Metti che niente niente abbia perso pure olio e gli sei andato su dell'olio, si leggono ancora le scritte. Vabbè, molte volte rimango basito, ragazzi. Per me è sabato, adesso vado a dormire, che è sera, e mangiare e dormire. Per voi sarà domenica, quindi vi auguro una bellissima domenica, un abbraccio grande. Settimana prossima non ci sarà l'appuntamento dalla domenica, però seguirà, speriamo di tirare fuori questo tema dal box perché ci sarà da ridere, però sicuramente vi faremo un filmato dalla bellissima Roma. Un abbraccio a tutti quelli che ci seguono, grazie di cuore, ragazzi, e ci vediamo in settimana con i nostri video. Ciao!